bene bene oggi altro allenamento ovviamente sono fuori forma come sempre oggi il nostro obiettivo è il su mano la sua partenza da sant'orso indicativamente mille metri di slivello non so quanti chilometri andiamo su con calma a meno io si informa temperatura gradevole e calda infatti mi sono parato su anche il piumino ma vediamo quando siamo la su si ande vamos eccoci qua abbiamo fatto 250 metri di dislivello in 4 chilometri e 23 la dorsale del su mano eccola lì la croce eccola la si vede davanti ci sono due bikers e poi ci siamo noi qua spiana un attimo ti fa riposare la cosa c'è da su mano anche qua c'è da parcheggiare oh 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 qua inizia un po' lo sterrato ora cristina ha le sue fantastiche terreno dry 33 mm gonfiate a quattro e mezzo io ho messo sulle sue originali bontraghe r1 r3 da 32 mm lisce gonfiate quattro e mezzo vediamo più ci si alza di livello di dislivello più la cosa diventa sempre più interessante in questo momento abbiamo fatto otto chilometri e mezzo 540 metri dislivello e siamo sul terreno battuto cielo terzo in questo momento caldo beh comunque sempre bella questa salita la seconda volta che lo faccio quindi prima volta che la faccio con una bicicletta normale impegnativa ma bella soprattutto per i colori manca solamente la vegetazione che arriverà ma proprio bella bene siamo arrivati a quota 674 di dislivello adesso probabilmente inizierà la parte più dura per noi dico bene Cristina sgonfiamo un po' oppure andiamo su così andiamo su così perché dopo tanto c'è la cementata a colpi di spillo piano piano si arriva in questo momento ne ho fatto 12 chilometri e 730 metri di dislivello piano piano salutiamo sempre più di quota che penso abbiamo fatto 13 chilometri 927 metri di dislivello diciamo che il più è fatto dovremmo scendere un po' piedi fare almeno 50 metri dislivello piedi per arrivare alla cima ma va alla croce wow giornatone oggi vamos bene penso che siamo siamo 1207 sopra il livello del mare il sumano 1290 quindi ci siamo quasi wow piga cristiana ovviamente è avanti 13 chilometri e 72 995 dai che facciamo i mille metri di dislivello 997 con una moto sempre simpatico 997 999 ci facciamo gli ultimi 50 metri di dislivello a piedi diciamo che è stato interessante brava ultimi 50 metri prima di arrivare su dalla croce e spingi spingi pure la bici e spingi spingi la bici arrivati bene siamo arrivati in cima su mano e c'è la croce qua c'è la cristiana che sta già mangiando bene 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 questo panoramico panoramico Siamo qui in bata? Siamo qui in bata? Siamo qui in bata? Ricapitolando, per il momento abbiamo fatto 14 km per 1.100 m di slivello. Adesso ci riposiamo ancora un po', poi riprendiamo un giro e facciamo un giro ad anello. Per il Bosco di Tretto. Il vecchio costo e il costo per andare su Dasiago. Altopiano Dasiago. Il Cengio. Il Cengio là. Andiamo da Cristina. Bene, adesso abbiamo mangiato, ci siamo riposati, salutiamo la cima del Novegno, ritorniamo giù. Per fare un giretto in mezzo al boschetto. Bene, adesso sgonfiamo un po' le bici per la discesa. Eccoci qua, questo dovrebbe essere il Bosco di Tretto. Potrei anche sbagliare, visto la prossima volta che vengo qua. L'aria è ancora un po' freddina, un po' freschina, frizzantina, quindi ci teniamo i nostri giubinetti. Se dopo ci viene caldo, ci ritiriamo via ovviamente. San Rocco. Però noi andiamo per... andiamo al Bosco di Tretto. Facciamo più lunga. Beh, vi devo dire che volevo tirare via giubinetto questo qua, ma in discesa ci sta tutto per il momento ancora. Ho un mani un po' fredde, ma... Prima eravamo là con la croce. Abbiamo fatto tutto il giro così. Bosco di Tretto e adesso siamo qua. E adesso scendiamo. Non so se riuscirò a riprendere ancora perché adesso ci sono tutti i tornantini che vanno giù. Vamos!